Buongiorno, mi chiamo Andrea Martone e sono il direttore del Master in Human Capital Management. Il nostro Master è al tempo stesso un'occasione professionale e personale. I partecipanti durante il corso apprenderanno gli strumenti e i contenuti della progettazione organizzativa e della gestione delle risorse umane, ma è anche molto importante lo scambio di esperienze e di conoscenze che hanno con i colleghi del corso, che sono professionisti delle risorse umane come loro, con i docenti e con tutta l'organizzazione della SUPSI. Questo è un corso che si rivolge a persone che sentono il bisogno di cambiare, di crescere e che vogliono vivere un'esperienza che li toccherà nel profondo. Il Master mi ha aiutato dandomi quegli strumenti che ogni responsabile di risorse umane deve poter applicare, poter usare e quindi per me è stato veramente importante e veramente d'aiuto. Ricordo sicuramente con piacere i vari professori che sono intervenuti, che erano professori di diversa formazione, ma anche diverse università, le europee. Questo secondo me ha arricchito in modo importante il percorso del Master. Il Master mi ha lasciato una serie di strumenti che mi aiutano quotidianamente nella mia attività professionale e poi anche tutta una serie di contatti con colleghi del settore che mi sento regolarmente e mi confronto anche regolarmente su temi comuni. Per quanto riguarda i relatori sono sicuramente persone con una pluriennale esperienza che al di là di essere comunque interessanti da ascoltare, da vivere in aula, sono persone che anche come consulenti del proprio vivere, delle proprie esperienze durante il lavoro ti possono dare un enorme valore aggiunto. Per quanto riguarda l'aula, avevo una classe veramente molto molto affiatata. Persone con svariate esperienze, molto più di me, e che mi ha dato anche nelle pause, nei giochi, negli esercizi di gruppo, un estremo valore aggiunto. Li ho adorati, li ho adorati tanto e il poterli vedere tre giorni al mese era comunque un bel diversivo. Questo Master mi ha lasciato una base teorica vastissima e una capacità di affrontare le problematiche sulla base dei trend attuali. Consiglio questo Master sicuramente a chi è motivato e ha voglia di specializzarsi nel settore delle risorse umane a 360 gradi. Il Master HCM è una sfida, è una sfida soprattutto con se stessi, ma è anche una grande opportunità che vi invitiamo a cogliere. Vi aspettiamo!